CREAF diffonia processo insieme a Lamberto Gestri e ai vertici della partecipata, le reazioni della politica. Il teologo Andrea Grillo apre il convegno pastorale di Ocesano per testimoniare la fede occorre essere contagiosi. Viadotto a Borgo Nuovo, i giunti sono rotti, lavori d'urgenza e lunghe code in tangenziale. Riqualificazione del serraglio, inaugurato il container bar in piazza dell'università. Buongiorno, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale delle 13 e 45. La notizia di citazione diretta a giudizio di Matteo Biffoni, in qualità di presidente della provincia di Prato, nella vicenda del fallimento del CREAF, ha suscitato, come era immaginabile, le reazioni della politica. Il PD conferma la propria fiducia a Biffoni, mentre dall'opposizione c'è chi ne chiede le dimissioni. Il presidente della provincia Matteo Biffoni si dice pronto a chiarire le decisioni assunte nella vicenda del fallimento del CREAF, dopo che la procura gli ha notificato la citazione diretta a giudizio insieme ad altri otto indagati per la bancarotta dell'azienda partecipata. A processo, il prossimo 18 giugno, andranno anche l'ex presidente della provincia Lamberto Gestri, gli ex amministratori della società Laura Calciolari e Luca Rinfreschi, oltre ai componenti del CDA Veronica Melani e Gianmarco Bacca, e i revisori dei conti Massimo Longini, Giovanni Picchi e Marco Bini. Mi sono trovato a affrontare una situazione molto complicata e ho provato a salvare il salvabile di un'esperienza nella quale erano stati riversati oltre 20 milioni di soldi pubblici, commenta Biffoni, sono convinto di aver agito con onestà nel migliore dei modi. A prenderne le difese il segretario provinciale del PD, Gabriele Bosi, che a nome del partito conferma piena fiducia al sindaco e presidente della provincia, oltre ad aver gestito come presidente della provincia solo l'ultimissima fase di una vicenda che viene da molto lontano, Biffoni ha sempre agito in piena trasparenza ed è proprio alla luce di questo che Bosi si dice più che convinto che potrà dimostrare agevolmente la propria stranetà al reato che gli è stato contestato. Di tutt'altro tenore le reazioni dell'opposizione, a cominciare dal Movimento 5 Stelle con Silvia La Vita, non solo Biffoni è il massimo rappresentante del PD, unico responsabile di questa voragine, ma prima di essere stato eletto sindaco è stato per dieci anni consigliere comunale, votando sempre a favore del bilancio di Creaf, sottolinea La Vita di Feco, la consigliera comunale Marilena Garnier che sulla vicenda del Creaf aveva presentato un esposto. La Lega si spinge oltre con la segretaria provinciale Patrizio Vattoni che chiede a Biffoni di fare un passo indietro in attesa che la giustizia porti a termine il suo percorso, affermò Vattoni, riteniamo opportuno e duveroso, viste e considerate le evidenti gravi mancanze che Biffoni rassegni le proprie dimissioni. Chiesa Pratese ha convegno con la relazione del teologo Andrea Grillo ha avuto inizio ieri sera in San Francesco il Consiglio Pastorale. Questa sera il Vescovo Agostinelli presenterà il piano pastorale diocesano. Per testimoniare la fede occorre essere contagiosi e saper celebrare la parola e la vita di Cristo in modo forte e toccante. A dirlo è Andrea Grillo, docente di liturgia al Sant'Anselmo di Roma e a Padova. Il teologo è stato invitato dal Vescovo Franco Agostinelli a tenere la prima delle due serate del convegno pastorale diocesano, l'appuntamento che segna l'inizio delle attività della Chiesa di Prato dopo la pausa estiva. Credo che appunto la possibilità di essere contagiosi deriva anzitutto dalla capacità di aver reso la fede qualche cosa di profondamente intessuto nel proprio corpo. Più che un'esperienza di carattere mentale, cheppure è necessaria, una fede calata nel corpo, cioè la possibilità di riconoscersi donati alla propria esistenza, così come la liturgia fa fare, così come la preghiera suggerisce continuamente, permette di incontrare l'altro in un modo sorprendente. La sua riflessione è stata incentrata sul primato della parola di Dio e l'importanza dell'esperienza del dono, due tematiche provenienti direttamente dal Concilio Vaticano II e ribadite nella recente Costituzione Apostolica di Papa Francesco pubblicata ieri sull'importanza di una Chiesa comunitaria sinodale che deve necessariamente ascoltare il popolo di Dio. Il Vangelo di oggi deve ricominciare le cose elementari, le cose più semplici e questo è normalmente il linguaggio che usiamo, anche se non ce ne accorgiamo, quando celebriamo la fede. La fede la annunciamo, la fede la viviamo, ma la fede anche la annunciamo e per annunciarla dobbiamo partire dalle cose semplici, per esempio dall'acqua, dal pane, dal vino, dall'olio. La liturgia parla di Cristo, annuncia Cristo, riscoprendo il valore originario di gesti semplicissimi che si caricano di senso trascendente partendo però dalla serietà con cui sono vissuti nella vita quotidiana. Il convegno continua questa sera, sempre in San Francesco, con la presentazione del nuovo piano pastorale scritto da Monsignor Agostinelli. Si tratta del documento contenente gli obiettivi comuni del Cammino che la comunità ecclesiale è chiamata a percorrere durante questo anno. Tangenziale lavori d'urgenza al viadotto Valli e all'altezza di Borgo Nuovo per sostituire dei giunti rotti, forti le ripercussioni sul traffico. Dario Zona. Lunghe code in tangenziale a causa dei lavori d'urgenza iniziati ieri sul viadotto Valli. Nelle ore di punta l'incolonamento per chi viaggia in direzione di Vaiano parte dalla rotatoria di Capezzana. I disagi sono dovuti alla presenza del cantiere che ha creato un imbuto sul ponte percorribile su una sola corsia, mentre sull'altra gli operai sostituiscono gli otto giunti ammalorati. L'intervento è necessario perché otto giunti sono rotti del ponte. È importante sostituirli per la sicurezza sia delle macchine che ci passano, per il rumore diventa insopportabile per quelli che stanno intorno, perché la struttura del ponte non deve avere infiltrazioni dai giunti e non deve avere frizioni dove i giunti servono apposta per scongiurarle. La durata dei lavori, che riguarderanno anche la direzione di marcia opposta verso sud, è prevista in due settimane, durante le quali il Comune ha vietato il parcheggio sotto il viadotto. A far discutere la tempistica del cantiere, partito in concomitanza con la riapertura delle scuole e il ritorno al traffico a pieno regime. Siamo arrivati ora perché la burocrazia e i suoi iter spessono le cose più lunghe di quello che ci si aspetta e quindi siamo arrivati oltre la data che c'eravamo prefissata, che era quella dell'inizio delle scuole, però essendo un lavoro importante su uno dei punti che sicuramente sono più sensibili, uno dei più sensibili, uno dei più vetusti, uno dei più sollecitati, è bene per quanti disagi si possano creare, è bene farli i lavori e quindi siamo a lavorare giustamente su quel ponte chiedendo scusa per gli inevitabili disagi e code. Il viadotto Valli è una delle opere monitorate dal Comune dopo la tragedia di Genova. Il manufatto, secondo i tecnici, non presenta problemi statici e anche i vigili del fuoco intervenuti nelle scorse settimane per un sopralluogo sotto le campate hanno escluso pericoli dovuti a parziali di stacchi di cemento. Capitate proprio vicino al ponte? Esatto. C'è un po' di preoccupazione dopo i fatti di Genova? Penso proprio di no, se no, se viene giù questo, passiamo più sui ponti, ragazzi. Vi sentite, sembra un'opera ben manutenuta, abbastanza nuova? Mantenere si potrebbe mantenere anche meglio, basta guardando, però penso che non ci sia problema. I carabinieri della stazione di Iolo di Prato hanno denunciato madre e figlio, entrambi con precedenti perreati contro il patrimonio per ricettazione. All'interno della propria abitazione, perquisita su disposizione della procura di fermo, i militari dell'arma hanno rinvenuto alcune paia di scarpe rubate nel mese di agosto in un noto outlet delle Marche. Successivamente sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento di lusso e gioielli, oltre a strumenti utilizzati per eludere i sistemi di allarme dei negozi. Il materiale è stato sequestrato, la madre e il figlio sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di ricettazione in concorso. Varato dalla regione il piano regionale per la lotta alla povertà per sostenere persone e famiglie in situazioni di disagio economico e contrastare i fenomeni di esclusione sociale. Sono a 50.000 le famiglie toscane, equivalenti a circa 143.000 persone, che potrebbero beneficiare del piano regionale triennale di lotta alla povertà, presentato dall'assessore regionale all'Uelfar Stefania Saccardi. Il piano mette a disposizione fino al 2020 oltre 120 milioni di euro di risorse europee, statali e regionali, per un programma organico di interventi finalizzati al sostegno e all'inclusione sociale delle persone in difficoltà, nonché all'attuazione della misura nazionale del reddito di inclusione. La regione ha svolto un ruolo di coordinamento, promuovendo la nascita di una cabina di regia di tutti gli enti territoriali coinvolti. Tra gli interventi previsti ci sono servizi di accompagnamento e ricollocazione al lavoro, incentivi all'occupazione, sostegno all'abitare e interventi per l'infanzia. In Toscana abbiamo una situazione di povertà assoluta e relativa, migliore rispetto a quella che è la media nazionale, però è purtroppo in crescita, quindi anche in Toscana non c'è da stare tranquilli ed è importante ed è stata un po' la molla che ci ha fatto pensare di mettere insieme in un piano triennale 2018-2020 tutta una serie di misure di contrasto alla povertà. Molti gli interventi incentrati anche sulla scuola e sull'inclusione scolastica, dagli asili nido alle scuole secondarie. È molto difficile frammentarli questi interventi, però sicuramente c'è un impegno della regione come nel diritto allo studio, nelle politiche attive, nelle fasi di transizione, sull'emergenza abitativa così come nel sociale puro, proprio perché la nostra vuole e deve essere una regione inclusiva così anche come ci chiede l'Europa. Dopo il playground di basket e la cupola geodetica, al Serraglio arriva anche il primo container bar nell'ambito del progetto Riversibility. Ieri sera l'inaugurazione alla presenza del sindaco Matteo Biffoni. Prosegue il piano di riqualificazione del Serraglio. Ieri sera è stato inaugurato il nuovo container, che fungerà da bar e punto ristoro per i frequentatori della zona, tra cui gli studenti del vicino polo universitario. L'intervento fa parte del progetto Riversibility, che prevede l'installazione di altri container lungo le rive del fiume Visenzio. Presenta l'inaugurazione anche il sindaco Matteo Biffoni, che ha espresso la sua soddisfazione per il processo di riqualificazione della zona, divenuta un punto d'incontro di vitale importanza per la città. Il nuovo container arriva dopo la realizzazione del playground Federico Ioghi-Giontoni, il campetto da basket e della cupola geodetica in acciaio. La gestione temporanea è stata affidata a un privato. Noi proporremo innanzitutto un'attività sette giorni su sette, dalla mattina alle otto fino alle undici, quindi dalla colazione, merende, pranzi, aperitivi, apericena, supernotazione e soprattutto doposcena. Questa è la nostra proposta, saremo sempre aperti e chiaramente giovani, giovani, cerchiamo di creare un punto d'attrazione. Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Dalle ultime immagini del satellite possiamo vedere come gran parte dell'Europa si è interessata da un campo di alta pressione e quindi sia sostanzialmente sgombra da nubi. È invece presente un'area depressionaria piuttosto circoscritta che sta interessando ed interesserà anche nei prossimi giorni, più direttamente la Sardegna, la Corsica e più marginalmente anche i litorali dell'Italia meridionale. Tuttavia è una situazione che tenderà gradualmente a normalizzarsi a partire da dopodomani. Per quanto riguarda la previsione quindi per la giornata di oggi, all'insegna di un cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso, con tendenza tuttavia allo sviluppo di nuvolosità convettiva sulle zone medidionali, in particolare sulle zone interne, dove saranno possibili dei rovesci o dei locali temporali. Localmente ancora questi temporali potranno interessare ancora anche l'arcipelago. Le temperature massime sono in lieve aumento rispetto a ieri, i mari poco mossi, venti deboli, la tendenza per la giornata di giovedì, quindi di domani. Per condizioni al mattino di cielo generalmente poco nuvoloso, per il transito di velature e qualche modesto addensamento. Nel pomeriggio sulle colline metallifere e sulla miata saranno ancora possibili dei locali brevi, rovesci o temporali. Venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, specie sull'arcipelago. mari poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento nei valori massimi. Con questo Dall'Ammo è tutto. Il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è per questa sera alle 20.30. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.